Musica E' quello che naturalmente tutti i giorni in diretta noi ci prefissiamo. Nuovo DPCM è stato firmato, abbiamo in diretta con noi e lo ringraziamo naturalmente per fare servizio pubblico ai siciliani, il Presidente della Regione Siciliana, l'Onorevole Nello Musumeci. Bentrovato Presidente. Grazie, grazie a voi, grazie a chi ci segue. Allora Presidente, ovvio, partiamo subito da una sua considerazione in merito al nuovo DPCM. Bisognerebbe intanto conoscerlo, fino a questo momento non risulta essere stato pubblicato, abbiamo soltanto alcune impressioni, chiusura, regioni divise in tre fasce, limitazioni particolarmente stringenti in alcuni territori, meno penalizzanti in altri territori. Noi come conferenza delle regioni, senza ancora conoscere nel dettaglio il testo, posso dirle che già ieri abbiamo rinnovato il nostro dissenso. Riteniamo che ci siano delle palesi contraddizioni all'interno del provvedimento del governo nazionale, peraltro all'interno della stessa maggioranza di governo non si nascondono le posizioni e i punti di vista divergenti, il che ha costretto ad un confronto assai duro e più lungo del solito da parte di Palazzo Chigi con noi governatori. La verità è che tutto viene ponderato in funzione del dato epidemiologico, quindi quello che oggi sembra consolidato e assodato domani può benissimo cambiare, perché non decide la politica. La politica arriva dopo, chi decide è il virus, in questo momento è lui che ha il coltello dal manico, quindi le nostre sono scelte conseguenziali rispetto al dato epidemiologico. Nelle prossime ore, stasera o già domani, saremo nelle condizioni di poter essere molto più chiari e in funzione del provvedimento nazionale, noi Presidenti di Regione potremo capire se sia il caso di intervenire con le nostre misure, che in questo momento, come sapete, possono essere soltanto restrittive, mentre noi abbiamo presentato un disegno di legge col quale invece chiediamo per il principio della reciprocità che così come possiamo adottare misure restrittive, si possano adottare anche misure estensive. Presidente, lei è intervenuto durante il primo lockdown con molta forza, con molta presenza, è stato paladino ovviamente dei consigli di prevenzione per tutti i siciliani, è quello che noi dobbiamo continuare a fare adesso, solo che in estate probabilmente c'è stato un po' di allargamento delle azioni e poco controllo del territorio, è così? Sì, sono perfettamente d'accordo con lei, mentre io continuavo ogni giorno a invitare i siciliani alla prudenza, non potevamo fare altro, chi era preposto al controllo, cioè le prefetture che danno disposizione alle forze dell'ordine, credo non abbiano avuto le risorse necessarie, gli uomini in divisa sufficienti per poter garantire una presenza, ma anche un'attività sanzionatoria da un lato, dall'altro lato la irresponsabilità di una parte dei siciliani, che invece di portare la mascherina, di stare attento a osservare le norme di distanza fisica, continuavano a fare assembramenti. Sono perfettamente d'accordo con lei, in estate si è esagerato, ma lo abbiamo visto tutti, anche voi con i vostri servizi, avete dato ampiamente notizie di quello che stava accadendo, mentre la programmazione, che rimane competenza nostra, è stata assolutamente definita e portata avanti, l'abbiamo e la stiamo perfezionando in questi giorni, perché la programmazione è elastica, è a ventaglio, più cresce il numero dei positivi, più la programmazione assume gradualità. Noi immaginiamo oggi, lo ripeto, 2500 posti letto per i positivi Covid e immaginiamo 750-800 posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva. Anche perché il commissario Arcuri ha dichiarato che vi è dato tutti gli strumenti per poter migliorare sicuramente la situazione sanitaria in Sicilia, che non è tra le migliori in Italia. No, 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 è una notizia sbagliata. Il commissario Arcuri ci ha dato la possibilità di utilizzare 128 milioni con delle deroghe alle procedure, per riqualificare alcune strutture ospedaliere e per comprare il relativo materiale. Quindi immaginiamo un orizzonte di 6-8 mesi assolutamente insufficiente per affrontare l'epidemia di quest'autunno e di quest'inverno. Certo, se la delega del commissario Arcuri da Roma fosse arrivata a luglio invece che l'8 ottobre, noi avremmo potuto già aprire i cantieri e possibilmente completarne anche qualcuno. Presidente, la sua voce è importante. Dobbiamo dire ai siciliani che in questo momento stanno assaltando i pronto soccorsi. Assaltando si fa per dire. Ovviamente c'è una richiesta superiore anche perché i tamponi stanno funzionando in Sicilia. Dunque aumenta il numero, aumenta il numero dei positivi. La gente va verso i pronto soccorsi che in questo momento hanno delle carenze. La carenza per esempio anche di personale medico. Come pensa di intervenire su queste criticità delle strutture sanitarie? Intanto non bisogna andare nel pronto soccorso. Questa è la prima cosa che noi raccomandiamo ai siciliani. Se il servizio di medicina di base fosse maggiormente collaborativo, ed io sono convinto che lo sarà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, il cittadino che ritiene di essere positivo perché ha la tosse, perché ha la febbre o perché non sente più odori e sapori, dovrebbe rivolgersi al medico di base il quale applica il protocollo previsto dalle norme anti-covid. Oppure si rivolge al servizio sanitario predisposto dall'ASP che applica il protocollo e opera il tampone. Presidente, le dico una parolina a specializzandi. Che procede con i tamponi. Questo può essere fatto dal personale sanitario di cui disponiamo. Il personale sanitario è carente in tutta Italia, come lei sa. Io sono contrario al numero chiuso nelle facoltà di medicina e non mi stanco mai di ripeterlo. Fino a due anni fa da Roma arrivavano raccomandazioni a risparmiare, risparmiare, risparmiare sulla sanità. Queste sono le conseguenze e i risultati. Allora abbiamo sottoscritto una convenzione con le tre università statali per dire ci sono allievi che si stanno specializzando, perché non abbiamo bisogno di medici generici o comunque non c'è molto bisogno di medici genetici, ma di specializzanti. Quindi pneumologia, infettivologia, abbiamo bisogno di virologi, abbiamo bisogno di anestesisti. Dateceli. Ancora non si sono specializzati, non fa niente. Il problema è che non ci sono. Dateceli. E noi li impieghiamo nelle misure di emergenza. Al tempo stesso abbiamo pubblicato un bando e abbiamo reclutato la disponibilità di 3.000 operatori sanitari. Tutti sono o stanno per essere impegnati sul territorio in una condizione di emergenza. I pronto soccorso non sono elastici, come lei sa. Hanno una dimensione e quella rimane. Chi va nel pronto soccorso e ci vuole restare non può pensare di poter essere accolto e trattato come se fossimo in tempi ordinari. Siamo in guerra e in tempi di guerra ognuno deve fare un sacrificio. Presidente, vuole tranquillizzare i siciliani dicendo in che zona siamo adesso? Siamo in zona verde, in zona arancione? Sarebbe una presa in giro perché oggi direi che siamo in zona verde e domani potremmo essere in zona arancione. Dopodomani potremmo tornare in zona verde e per una settimana essere in zona rossa. Smettiamola con questi luoghi comuni, lo dico a lei che è collega giornalista, perché la buona informazione, e voi siete per la buona informazione, la buona informazione in questo momento è essenziale. Serve prudenza, serve cautela, non serve disperarsi, non serve immaginare l'apocalisse. Il virus cammina con ciascuno di noi. Più attenti siamo noi, meno occasione di trasmissione avrà il virus. Oggi siamo in una zona verde, domani potremmo cambiare, evitiamo il peggio. E per evitarlo noi stiamo facendo la nostra parte, ma è necessario che la comunità siciliana la faccia per intero, perché così ognuno con le proprie responsabilità, fra qualche mese usciremo fuori da questa drammatica stagione, avremo davanti la primavera e l'estate e speriamo che con la scoperta e la verifica del vaccino si possa trovare la soluzione definitiva. La lascio subito, però mi faccio una sua considerazione a proposito di scuola e trasporti. Come la regione siciliana interverrà? Dicono i medici che il virus cammina soprattutto con la complicità del pendolarismo, della mobilità. Più si muove la gente, più si muove il virus. Ecco perché abbiamo impedito alle scuole superiori la didattica in presenza e abbiamo applicato la didattica a distanza. Perché gli studenti superiori, come sapete, debbono muoversi da un comune all'altro spesso per raggiungere un istituto superiore. Diferso il discorso della scuola media inferiore, delle elementari, dell'asilo e del nido. Aspettiamo il DPCM, vediamo quali sono i limiti che sono stati posti e in funzione di quei limiti sapremo come poter definire e organizzare anche il nostro sistema scolastico. Posso dirle che dai dati che abbiamo a disposizione le scuole non sono ancora un focolaio di infezione. Questo mi lascia bene sperare. Voglio ringraziare il personale scolastico, naturalmente, e anche quello non docente, per lo sforzo che stanno compiendo. Dobbiamo essere attenti perché la chiusura delle scuole determina refluenze di carattere sociale. Il genitore che fa, dove lascio il bambino, ed io ho detto e continuo a ripetere che l'ultimo spazio da chiudere deve essere quello delle scuole. Presidente, autobus fermi senza autisti, l'intervento sui trasporti diventa prioritario? Certo, diventa prioritario ed è per questo che il nostro assessore ha già tenuto due vertici con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria per tentare di capire come noi possiamo ovviare al problema. E' chiaro che se arriva il lockdown non ci sarà più bisogno di autobus, staremo a casa chiusi per alcune settimane. Auguriamoci che questo non ci sia, stiamo lavorando per poter moltiplicare i mezzi di trasporto, quelli urbani naturalmente ci pensano i comuni, quelli extraurbani ci pensiamo noi. E' un problema serissimo perché prendere il mezzo pubblico oggi significa arrivare in un'area di possibile frequente contagio. Quindi la condotta individuale e collettiva di ciascuno di noi deve servire ad aiutarci a risolvere alcuni problemi, a cominciare da quello del pendolarismo e della mobilità. Presidente, come dice il DPCM, coprifuoco dalle 22 da domani? Sì, da domani decorre il... Noi l'abbiamo già applicato il coprifuoco a partire dalle 23, abbiamo visto bene, abbiamo visto lontano. Lei ricordava la mia linea della fermezza e del rigore, continuiamo a seguire la linea della fermezza e del rigore. A ogni disposizione di chiusura deve però corrispondere una disposizione di intervento e di sostegno finanziario. Se un imprenditore, se un'azienda è costretta a chiudere e a mettere in cassa integrazione i dipendenti, è necessario che lo Stato provveda al mantenimento di quella azienda e al sostentamento di quegli operai, di quei dipendenti. Questo lo abbiamo preteso, venisse inserito nell'ultimo DPCM del Consiglio dei Ministri, lo abbiamo chiesto noi, i presidenti delle regioni. Spero che il governo centrale lo abbia rispettato questo impegno. In ogni caso, pare che siano già pronti alcuni provvedimenti per delle provvidenze e dei sostegni finanziari. Solo così noi possiamo evitare la rabbia di tanta gente che dice «Vabbè, tu Stato mi chiedi di chiudere, ma dimmi come faccio a portare un pezzo di pane a casa». Ecco, questo è il binomio iscindibile. Chiusura e sostegno sono due elementi che non possono e non debbono assolutamente scindersi. Presidente, il servizio pubblico, il suo appello ai siciliani è in questo giorno alle Forze Armate che tutti i giorni naturalmente sono impegnate in questa emergenza? Alle Forze Armate va il mio e il nostro pensiero del governo regionale per l'impegno che profondano ogni giorno, spesso sottodimensionati, spesso con carenza di uomini e di mezzi. Quello che fanno è davvero eroico ed io voglio ricordarli come vorrei rivolgere un pensiero agli oltre 50.000 siciliani che sono caduti nella Prima Guerra Mondiale per servire la patria. Al tempo stesso ai siciliani voglio dire siamo tornati in guerra. È una guerra diversa, conosciamo il nemico, ma non lo vediamo di persona per poterlo neutralizzare purtroppo e cammina assieme a noi. Con un poco di saggezza, con un poco di responsabilità riusciremo tutti a venirne fuori. Il governo della regione e chi vi parla in modo particolare vigila giorno dopo giorno affinché questa avventura possa comportare quante minor perdite possibili e quanto minor danno possibile. Ma tutti dobbiamo fare il nostro dovere. Alla fine ne usciremo vincitori, vedrete. Grazie Presidente. A nome del quasi milione di telespettatori che noi abbiamo in Sicilia le auguriamo buon lavoro ovviamente e ci ritenga, per favore, ci ritenga strumento di comunicazione. Noi facciamo questo per la Sicilia. Sono convinto che voi lo siate e lo fate anche bene assieme a tutte le altre emittenti libere cui va il mio applauso e il mio apprezzamento. Buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, andiamo e torniamo a Daniela Crimi che è la nostra coordinatrice di questo spazio scuola perché la scuola è così importante che naturalmente noi ormai abbiamo deciso di fare questo appuntamento settimanale. ogni mercoledì saluto anche il professor Francesco Pira che è docente universitario e il professor Maurizio Muraglia invece docente dell'Istituto Maria Adelaide. Bentrovati a entrambi. Grazie. Grazie a voi. Buonasera. I nostri ospiti oggi li abbiamo invitati per parlare di didattica a distanza considerato che già dal 24 di ottobre siamo in vigenza di questa ordinanza del Presidente della Regione che ha anticipato un poco quello che il nuovo dispositivo di Conte andrà a decidere per tutta l'Italia e cioè didattica a distanza al 100% per i nostri ragazzi delle scuole superiori. A questo punto chiedo a Maurizio e chiedo a Francesco la didattica a distanza è sicuramente un'opportunità e Maurizio ce lo dirà molto bene ma aumenta anche il rischio e io penso che sia così perché dall'esperienza che mi sono fatta anche l'anno scolastico scorso ho visto che è accaduto purtroppo aumenta il rischio di fenomeni di cyberbullismo un po' per la full immersion che questi nostri studenti loro malgrado e il nostro malgrado sono costretti a vivere con la didattica digitale e anche un po' per il fatto che la distanza fisica dagli operatori scolastici dai docenti ma anche da tutto il personale li mette in una dimensione forse di minore vigilanza. vorrei chiedere a voi se la didattica ripeto è una opportunità e se comunque dentro questa opportunità ci sia anche il rischio il pericolo di fenomeni di cyberbullismo Sì prima Francesco Vado io ma io devo dirvi che i dati della polizia postale e quanto io ho potuto verificare durante il lockdown io ho fatto un'indagine su un campione di 1800 studenti e una ricerca a cui sto lavorando che sono ragazzi preadolescenti e adolescenti quindi del seconda terza media e delle superiori vengono fuori dei dati di un uso costante delle tecnologie ma tra l'altro ci sono dei fenomeni in particolare le challenge di TikTok che sono pericolosissime che possono diventare possono trasformarsi in derive pericolosissime come il cyberbullismo il sexting non dimentichiamoci l'ultimo allarme che è quello del body shaming o il revenge porn su cui addirittura è stata fatta una legge è chiaro che quello che diceva la professoressa Crimi dall'alto diciamo anche della sua esperienza è verissimo i ragazzi sono abbastanza abbandonati a se stessi non hanno le ore di sorveglianza a scuola vivono diciamo in questa estrema libertà che viene dal contatto e quindi ci sono due tipi di problemi secondo me un problema che era quello che diceva appunto l'altro ospite cioè legato ad un percorso educativo che sicuramente può avere dei deficit ma si ripresenta in maniera vorticosa tutta una situazione diversa cioè quella legata al grande tema dell'educazione ai sentimenti che i ragazzi non riescono a svolgere e non riescono a percepire perché il cyberbullismo il bullismo tutte queste derive nascono anche da una mancanza di educazione ai sentimenti e dall'altra quello dell'uso consapevole delle nuove tecnologie quindi siamo di fronte ad una emergenza nell'emergenza c'è un'emergenza educativa e soprattutto bisogna tener conto che in questo momento anche le famiglie hanno delle difficoltà delle difficoltà che sono appunto materiali delle difficoltà che sono appunto educative delle difficoltà di contatto quindi diventa veramente tutto molto tutto molto difficile Maurizio la didattica a distanza quali cosa abbiamo imparato dall'esperienza dell'anno scolastico scorso e cosa è cambiato ora in questo secondo lockdown ci siamo migliorati o la didattica a distanza è rimasta uguale la didattica o quella che chiamiamo così è una forma di educazione e quindi in quanto è una forma di educazione diciamo segue determinati sentieri che sono sia in presenza che a distanza naturalmente se la didattica è una forma di educazione naturalmente ha bisogno di autoritas di autorità il tema del bullismo del cyberbullismo preesiste naturalmente alla didattica a distanza e la scuola ne ha fatti tanti e ne fa anche di progetti per neutralizzare questo tipo di derive e quindi la questione del diciamo della devianza la questione della fragilità emotiva o della quello diceva Pira prima una sorta di analfabetismo delle emozioni analfabetismo emotivo qualcuno la chiama questa è una questione che viene amplificata nell'assetto a distanza viene amplificata proprio a fronte del fatto che comunque noi non abbiamo classi abbiamo somme di singoli somme di solitudini davanti al monitor ora dicevi tu Daniela cosa abbiamo chiaro che abbiamo adesso maggiore dimestichezza con fare scuola a distanza sappiamo che la quota di empatia è la quota di calore emotivo che è necessaria a distanza e chiaramente sappiamo che è tanto necessaria e di sé deve riuscire a colorare anche l'insegnamento la didattica insomma delle discipline o dei saperi quindi oggi siamo più attenti al fatto che non si può riprodurre a distanza la didattica della presenza io ho coniato il costrutto didattica in emergenza che è quel modo di fare scuola in cui tu devi integrare quanto più possibile livello didattico inteso proprio come procedure di sviluppo di conoscenze e competenze e livello educativo per cui noi dobbiamo prendere secondo me sul serio in assetto di didattica a distanza la fragilità emotiva che inevitabilmente diciamo percorre i nostri gruppi di bambini di ragazzini che è una fragilità emotiva che può generare vittime telematiche perché questa fragilità emotiva lo sappiamo io tutte le mattine faccio didattica a distanza e i visi tristi i visi diciamo segnati dall'insicurezza dalla precarietà dall'incertezza per il futuro li vedo quindi è evidente che se io devo spiegare Leopardi lo devo condire continuamente di significati di motivazione di empati tutto quello è una grande io Daniele anche in un precedente intervento l'ho detto e anche in altre sedi in questo momento lo sto dicendo qui occorre essere ancora più insegnanti e più educatori di quanto si fosse insegnanti ed educatori proprio perché manca la comunità di apprendimento di fatto manca la comunità di apprendimento quindi vedi come il ragionamento si salda con quello del cyberbullismo poi alla fine ecco nella tua esperienza di docente hai io come dirigente scolastico li ho vissute diciamo questi episodi li ho vissuti diverse volte ti è capitato di essere ecco interrotto durante la tua lezione su zoom piuttosto che su google meet da fatti incresciosi da c'è questo fenomeno che va dilagando questo dello zoom booming cioè queste delle incursioni di estranei all'interno della della lezione o con semplicemente per il piacere di interrompere o anche nelle forme più gravi per messaggi aggressivi o anche violenti zoom zoom bombing qualcosa del genero zoom bombing probabilmente no devo dire di no ma ha scarso significato il mio no nel senso che è contingente nella mia esperienza di didattica a distanza io insegno come hai detto nel ducandato Maria Delaide non mi è mai capitato ne sono a conoscenza perché ne leggo ne leggo effettivamente sono fenomeni c'è una casistica qui Pira molto meglio di me perché lui segue questi fenomeni sul campo da anni e conosce benissimo le cose ma sono c'è una casistica elevata c'è una casistica elevata rispetto a queste piattaforme soltanto da poco tempo zoom google meet hanno costruito un sistema di difesa e di schermatura per cui almeno nel precedente lockdown capitava appunto a scuola nelle prime lezioni nelle video lezioni capitava che magari il link fosse dato ad estranei e ci fossero delle incursioni ci sono stati tanti episodi di questo tipo a te non sono mai successi però io che ho una dimensione un po' più così di organizzazione grande di sistema qualche cosa l'ho conosciuta di questo tipo cosa possiamo dire Francesco agli insegnanti che si trovano di fronte a questi episodi di ecco di cattiva condotta chiamiamola così che possono succedere in presenza ma che ora si sono trasformati diciamo nella dimensione della didattica a distanza come contenerli come prevenirli e come gestirli soprattutto io credo che quello che è mancato condivido totalmente quello che è stato detto perché quello che è mancato noi ci siamo ritrovati dall'oggi al domani a fare didattica a distanza senza avere nessun tipo di formazione e non è una cosa semplice cioè non si può affrontare il rapporto con la classe come quando entri sorridi litighi non senti gli odori è una cosa completamente diversa io sono stato in tantissime scuole a parlare di cyberbullismo gli insegnanti sono in seria difficoltà perché non conoscono le tecnologie non sanno i pericoli da dove possono arrivare noi chiediamo agli insegnanti costantemente di fare i psicologi di fare i pedagogisti di fare i filosofi ma non possiamo pretendere questo in un sistema che è anche di scollamento totale con le famiglie quindi con le famiglie che ti aggrediscono e non ti aiutano a gestire questo tipo di cose io sono andato in tante scuole e ho ascoltato delle storie che sono veramente incredibili storie che hanno distrutto veramente ragazzi per per dei sistemi che sono veramente veramente incredibili di di sopprusi che possono esistere e che purtroppo gli insegnanti non hanno rispetto per esempio all'uso delle tecnologie quando io ancora oggi arrivo nelle scuole elementari e medie e dico agli insegnanti esiste una piattaforma che si chiama TikTok che è un social cinese dove avvengono delle cose e loro mi dicono ma che cos'è questo TikTok quando i bambini delle elementari e la quarta e della quinta elementare che non potrebbero essere iscritti nemmeno quelli delle medie perché fino a 13 anni non possono essere iscritti sono regolarmente iscritti partecipano alle challenge ma non lo sanno nemmeno i genitori quindi questo è il tema il tema è che noi dobbiamo avviare dei processi intanto di collaborazione fortissima tra scuola e famiglia dobbiamo formare i docenti che devono fare i docenti non possono fare i genitori e dobbiamo formare i genitori per spiegare che mettere un figlio dentro una stanza con uno smartphone con il wifi attivato e con internet connessione veloce per sempre non lo espone a minori pericoli rispetto che a mandarlo al centro commerciale da solo o a lasciarlo a casa da solo perché dalla rete può arrivare di tutto e le cose che sono accadute anche durante il lockdown ci fanno comprendere che c'è una situazione emergenziale e dobbiamo in qualche modo lavorare su questo e lo possiamo fare solo in un modo io non credo che noi abbiamo risolto poi voi mi direte qual è la vostra esperienza non credo che noi abbiamo risolto con la legge sul cyberbullismo il danno che può venire dal cyberbullismo noi abbiamo detto sì adesso c'è una legge ma non possiamo continuare a pensare che risolviamo i problemi facendo una legge che poi magari non trova l'applicazione perché quando io al cyberbullo che a scuola ha perseguitato il compagno per tre anni gli dico gli mando la lettera di ammonimento del questore cosa ho risolto quali sono i processi che posso fare per recuperare il cyberbullo e per recuperare la vittima è difficilissimo l'altra cosa importante su cui invito a riflettere soprattutto il personale docente è che noi ci siamo fatti l'idea del bullo maschio ecco non esiste più il bullo maschio esistono i bulli i cyberbulli che sono di entrambi i sessi assolutamente anzi ci sono squadre squadre di ragazze che si coalizzano per danneggiare altre ragazze e poi in questo tema e concludo in questo tema di vetrinizzazione costante della nostra vita di questa esibizione costante della nostra vita è fondamentale essere perfette essere belli essere meravigliosi avere il fisico eccezionale perché tutto quello che non è standard allora diventa contestabile e diventa da odiare e quindi questo odio che noi trasferiamo sulla rete diventa veramente letale per dei ragazzi che sono molto fragili perché attenzione la fragilità dei ragazzi non dipende dalla scuola dipende dalla famiglia Maurizio tu che sei un esperto di formazione dei docenti cosa diresti ai nostri docenti ai nostri colleghi anche dirigenti scolastici che hanno davanti questi mesi di didattica a distanza cioè consigli dei percorsi di formazione particolari per gestire meglio ma anche meglio dello scorso anno scolastico visto che sono passati diciamo dei mesi e quindi dovremmo essere più bravi hai dei particolari suggerimenti per i docenti ma io non vorrei apparire minimale perché so di apparire minimale quando dico che basterebbe tornare ai fondamentali dell'insegnamento e magari attingendo a quelli che sono gli assetti fondamentali dell'insegnamento nel primo io insegno nel secondo ciclo nel primo ciclo proprio in questo momento in cui quel che serve è non so se questo possa essere affrontato da una forma percorsi formativi in servizio e che come rendo formativa e motivante il sapere che insegno cioè il punto è che se noi siamo davanti ad una necessità di creare anche in ordine a quello che è stato detto prima di creare autostima e di creare anche comunità e creare comunità significa anche creare i presupposti per disinnescare quanto più possibile il meccanismo vittima oppressore che è il tipico meccanismo di base del bullismo cioè triplice vittima oppressore spettatori perché poi c'è sempre questa triangolazione allora lì credo che la didattica l'insegnamento chiunque insegna e voglia riflettere su queste cose secondo me ha bisogno tutti quanti abbiamo bisogno per esempio faccio un esempio pratico di cui parlava Pira prima della veterinizzazione e della necessità di apparire questo è un tema culturale questo non è soltanto un tema tecnologico lo diventa poi un tema tecnologico perché è chiaro che veramente occorre che è questo un angolino della formazione forse può servire anche può essere dedicato anche a dire quali sono che cos'è TikTok fare un esempio probabilmente può avere una dimensione informativa la formazione però oltre alla dimensione informativa c'è la dimensione formativa cioè il tema della veterinizzazione è un tema culturale e dove se non nell'insegnamento si affronta un tema culturale un tema culturale non è di nessuna materia è di tutte le materie perché se noi lavoriamo cioè persino io che insegno letteratura italiana e mi avventuro su sentieri che sembra che non c'entrano niente con quelli di cui stiamo parlando per esempio mi metto su un sonetto di Dante Alighieri quindi mi trasferisco nel medioevo e mi spunta tanto gentile tanto onesta pare la donna mia quando altrui saluta cioè io mi trovo davanti a un pare che che chiama in causa proprio una riflessione coi ragazzi quanto conta l'apparire quanto conta l'involucro esterno delle nostre vite ci ho fatto un esempio di una cosa lontanissima ora quando mi chiedi la formazione Daniela tu sei testimone con me che sono decenni che la formazione si attorciglia attorno a questioni di contorno a questioni a questioni che e non affronta quello che io lo vado scrivendo dalla metà degli anni 90 voi vi rendete conto cos'è la metà degli anni 90 ci sono 25 anni che io scrivo che la scuola deve essere capace di trasformare i saperi in cultura personale degli studenti cioè i saperi disciplinari in cultura significa dare spazio dentro le classi a ciò che è attuale a ciò che è contemporaneo ma non come verniciatura retorica creata dall'ora di educazione civica no le prediche sui valori sul ben comportarsi ma farli emergere dall'interno delle scienze della matematica come pensiero critico dall'interno dell'arte e della musica come pensiero creativo dall'interno della storia cioè io credo che quello che serve un percorso formativo potrà cioè il percorso formativo secondo me dovrebbe avere questo titolo come rendere formative e inclusive le discipline di insegnamento e poi ci mettiamo se ci dobbiamo mettere tutti insieme a tornare a un tavolo per tre anni non meno credo non meno di tre anni si può fare secondo me questa è la mia percezione delle cose sì se arrivano delle domande da parte del nostro pubblico dei nostri telespettatori Roberto noi possiamo anche cercare di rispondere se possiamo altrimenti andiamo avanti vi volevo chiedere ecco a entrambi nell'ordine diciamo poi vedete vediamo anche la discussione sia l'uno che l'altro stiamo vivendo un momento sicuramente difficile che è questo momento della pandemia e la scuola lo sta vivendo in prima linea sicuramente in prima persona perché come voi vedete la preoccupazione di tutti a cominciare dal nostro giustamente capo del governo è quello di non togliere a queste generazioni l'opportunità di frequentare la scuola perché il pericolo è quello che queste generazioni nel futuro potranno subirne dei danni irreversibili in questo momento forse noi non ce ne accorgiamo ma sicuramente fra qualche anno questo scarto emergerà ora io mi chiedo come possiamo noi operatori della scuola e in che misura attutire questi danni cosa possiamo cercare di fare in questo momento di emergenza non dico di trasformare un dramma in una opportunità perché non è una cosa possibile ma certamente quello di fare i danni diciamo meno danno possibile per queste generazioni cercare di trasformare questa emergenza non in un'opportunità ma di ricavarne sicuramente qualcosa di buono ecco anche da questa didattica a distanza Maurizio come possiamo fare ma in questo momento occorre molto sistema secondo me cioè occorre avanzare in modo integrato comunità professionali comunità dei dirigenti comunità delle famiglie comunità degli studenti cioè io credo che questo sia un momento in cui proprio perché siamo avvolti da una cappa di sfiducia di demotivazione di incertezza quello che occorre e che diciamo stiamo tentando di fare è quello di creare un clima generale di fiducia allora la didattica a distanza può avere le sue armi però deve riuscire io quello che sto leggendo vorticosamente in questi mesi sulla didattica a distanza c'è un filo conduttore comune occorre essere creativi anche a distanza essere creativi significa occorre battere sentieri probabilmente nuovi rimettere in gioco il film mettere in gioco tutto ciò che stimola riflessione mettere in gioco il debate il dibattito cioè la didattica a distanza probabilmente deve battere sentieri che già erano auspicabili nella didattica in presenza chiaramente siamo attenti e molti di noi queste cose le fanno da anni però mettere in campo tutto quello che stana la comunità studentesca stana da una condizione di sfiducia da una condizione di pover ecco qua si può usare il costrutto che in questo momento è molto in voga di povertà educativa io sono fiducioso su questo perché lo vedo perché lo vedo perché nel praticarlo vedo che i ragazzi sono animabili i ragazzi non sono morti lo voglio dire a tutti i ragazzini quelli delle medie non sono morti nessuno è morto vorrei sentire anche una conclusione perché abbiamo due minuti al massimo quindi facciamo intanto una conclusione anche con il professor Muraglia però vi prego credo che già Daniela ve l'ha già detto insomma approfondiamo ancora di più cioè teniamo uno spazio di questo tipo che è fortissimo io ne sono convinto oggi un po' distratto da quelle che sono le priorità della gente che ha paura se siamo rossi arancioni o verdi però continuiamo a parlarne Daniela devi assolutamente inserire in questo contesto che noi facciamo ogni mercoledì questo spazio che è veramente utile professor Muraglia sì allora quanto ha detto Francesco Pira non è strano alla ricerca pedagogica alla ricerca didattica di questi decenni io un titolo che darei a un percorso formativo coerente con quanto Pira ha detto è lo traggo da un libro uscito alcuni anni fa dal professor Baldacci che è uno dei massimi nella pedagogia italiana che io seguo fedelmente e docilmente da una vita i profili emozionali del curriculum attenzione per far sì che la questione emozionale non voglio dire emotiva ma emozionale non rimanga soltanto una una pia intenzione che sta a latere degli ambienti di apprendimento ma diventi carne e sangue dei saperi di tutti i saperi allora noi abbiamo bisogno come docenti come comunità professionale di riflettere appunto su come io ci stavo lavorando prima del lockdown sai che io da tantissimi anni faccio lavoro con le scuole poi mi sono dovuto interrompere e come è possibile costruire un curriculum un curriculum proprio fatto delle discipline dei saperi in cui che veniva chiamato Daniela lo sa perché per fare la dirigente si è studiata tutta sta roba qui il curriculum implicito il famoso curriculum implicito che non è implicito di un tubo scusatemi l'espressione perché perché è chiaro che alcune rilevare quella alfabetizzazione di carattere emotivo di cui abbiamo bisogno tutti non solo i ragazzi può stare dentro appunto la dimensione il profilo emozione del curriculum cioè come integrare curriculum esplicito e curriculum implicito e creare assetti di insegnamento in cui il contenuto non rimanga solo come vorrei dire il contenuto conoscitivo dell'insegnamento di qualsiasi materia sia dai 3 anni ai 19 anni sia sempre rivestito di quello che rimando ad Ausubel cioè cose degli anni 60 praticamente è vero professore le chiedo perdono le chiedo perdono però avete visto abbiamo dato un grande spazio e comunque io suggerirei anche in un prossimo spazio con questo argomento trattare lo stesso argomento parlando con gli studenti perché noi siamo su tutta la piattaforma multimediale quindi abbiamo tutti i social oggi abbiamo fatto degli ascolti incredibili e lì mezzo ci sono i ragazzi che hanno bisogno di sentire anche questi argomenti perché se no se non ci parliamo non riusciremo a risolvere il problema Daniela grazie veramente di cuore per quello che naturalmente sei riuscita a trasmettere anche quest'oggi noi ci rivediamo mercoledì prossimo grazie al professor Francesco Pira e grazie al professor Maurizio Muraglia grazie a tutti a presto a presto chiudiamo questo appuntamento di 19 live oggi intensissimo però restate sulla nostra piattaforma perché continueremo ad aggiornarvi su quanto sta succedendo sul nuovo DPCM su quelle che sono a disposizione sulle eventuali dirette che partiranno comunque domani approfondiremo ancora e soprattutto l'aspetto sanitario che è importantissimo senza tralasciare quello economico Roberto Oddo vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon proseguimento d'ascolto